Noi vogliamo operare per dare strumenti che sono strumenti di informazione, strumenti di conoscenza ma anche per sollecitare e stimolare un confronto con chi opera poi nel territorio. Per questo il rapporto col Comune di Caltanissetta, con l'ASP, col Consorzio Universitario e con decine e decine di associazioni e movimenti che abbiamo incoraggiato a darci una mano aiuto sono convinti che la prevenzione e l'educazione alla salute si realizzano davvero se c'è un forte ruolo dei cittadini e di chi è organizzato a livello territoriale. L'iniziativa delle giornate di promozione educazione alla salute si svolge all'interno peraltro di una manifestazione che prenderà l'avvio il 15 ottobre, per concludersi il 25 ottobre, che è il Salus Festival. Quindi un momento di confronto che per la prima volta vede momenti di iniziative, di elaborazione anche all'alto livello scientifico, la presenza di testimonial che vengono dal mondo dello sport, della cultura, del cinema, del teatro e medici, ricercatori in campo medico e sanitario proprio perché siamo convinti che costruire una cultura e l'educazione alla salute lo si può fare soltanto nel coinvolgimento di attori molto diversi tra loro. Queste iniziative che noi stiamo realizzando a Caltanissetta delle giornate di prevenzione tendono proprio ad esaltare quelle che sono l'eliminazione dei fattori rischio modificabili e soprattutto penetrare nell'ambito diciamo culturale della nostra società perché far capire che intervenire sui fattori occorre farlo quando si è sani e non quando si è in una fase patologica diventa l'elemento determinante culturale su cui dobbiamo lavorare. Perché sono importanti nella prevenzione? Perché abbiamo un approccio che non è limitato agli operatori del settore e quindi rischia di restare nell'ambito diciamo di quelli che sono gli specialisti ma volendo dare incontro alla cittadinanza, agli studenti, agli insegnanti cioè a tutti quelli che sono i soggetti, attori dei percorsi di vita di ciascuno di noi per far capire l'importanza del mangiare bene, del mangiare salutare, l'importanza del fare attività fisica la lotta alle dipendenze, la lotta a tutti quelli che sono oggi un po' gli orpelli che danneggiano la nostra salute senza che noi ce ne accorgiamo. Il Salus Festival è un momento di verifico, un momento in cui si farà tutti insieme in un evento importantissimo il punto su prevenzione ed educazione alla salute che sono le due facce della stessa medaglia di Cevopocanze e su cui l'assessorato proprio in questi giorni ha investito con molta forza anche sugli obiettivi del piano sanitario nazionale abbiamo dedicato e indirizzato moltissime risorse alla prevenzione, all'educazione, alla salute quindi il Salus Festival cade a proposito e quindi sono grato al CFPAS e a tutti i soggetti che insieme all'assessorato della salute hanno consentito la realizzazione di questo importantissimo evento che è assolutamente decisiva e determinante perché educazione alla salute e prevenzione diventino ulteriormente un patrimonio dell'intero servizio sanitario regionale dell'anno siciliano.